E come si fa in Italia? È molto semplice, in Italia c'è una legge sul finanziamento dei partiti che permette dei finanziamenti occulti, quindi non registrabili, fino a 50.000 Euro. Allora cosa succede? Che un lobbista che rappresenta il banchiere A va dal politico e gli dice che il banchiere A ti dà 49.999 Euro, sua moglie te ne dà 49.999, suo figlio altri 49.999, il cameriere uguale, il giardiniere uguale, la zia, la cognata, la cugina, la nonna e si mettono insieme, capite bene, i milioni di Euro in questo modo, tutti i finanziamenti occulti ai partiti che avvengono in Italia, si pensa, l'Espresso ha calcolato qualcosa in diverse decine di milioni di Euro all'anno in questo modo, le ricadute sui cittadini sono ovvie perché naturalmente sono tutte leggi, decreti, tutti i regolamenti che vengono passati per favorire questo gruppo di interessi, quell'altro, senza ovviamente mai realmente tenere in considerazione gli interessi del cittadino.